Il Partito Democratico a Venafro ha una nuova casa che sarà anche la sede del Movimento Partecipazione Democratica. Un punto d'incontro aperto a tutti, in particolar modo ai giovani che spesso avvertono una distanza siderale rispetto alla politica. Sì, sabato abbiamo aperto al pubblico questa sede nel cuore del centro storico di Venafro. Siamo convinti che avere una sede fisica sia importante perché ci darà la possibilità di parlare direttamente con le persone ed affrontare di volta in volta le varie tematiche che affliggono il nostro territorio. Sicuramente l'obiettivo principale è quello di avvicinare i giovani alla politica. Oggi a Venafro siamo carenti per quanto riguarda proprio i giovani che si impegnano nella politica. Non so perché soltanto poi in concomitanza con le elezioni comunali c'è un avvicinamento alla politica. Dopodiché si lasciano le cose così andare per il loro verso e questo non va bene. Abbiamo intenzione di calendarizzare degli incontri tematici, degli incontri tecnici. Vorremmo parlare proprio del bilancio delle pubbliche amministrazioni, delle varie funzioni che ha l'Aggiunta, che ha il Consiglio Comunale, anche per fare in modo di formare quelli che potrebbero essere i politici di domani. Presente all'inaugurazione della nuova sede anche il segretario cittadino del PD Giuseppe Notte che ha pungolato l'amministrazione comunale di cui fa parte lo stesso Partito Democratico. Per l'esponente Dem occorre al sindaco Alfredo Ricci un cambio di passo per poter dare ai cittadini le risposte di cui hanno bisogno. Sicuramente siamo molto critici con quello che è l'operato di questa amministrazione che abbiamo fortemente sostenuto nella persona di Stefano. Abbiamo provato a lanciare qualche segnale ma sembra che abbiamo un'idea di politica completamente diversa. Ma questo non vuol dire che bisogna mettere il bastone fra le ruote a quelle che possono essere le iniziative di questa amministrazione. Ma vorremmo puntare un po' più in alto, alzare un po' l'asticella, anche perché vediamo il nostro Paese regredire quotidianamente e questo ci fa male. Grazie. Grazie.